Mi riesci a iniziarsi a dire che questa è una cosa costata e a squarciare un punto di dichiaria come intanto alleggiato su questi scrami, su questi scrami, adegna anche abbastanza modi ormai, troppo ci siamo arrivati perché con tutte le cantitette i signori di opposizione anziché essere un po' di conflitto che diventano contatti, diventa un'occasione per fare anche un'altra cosa e prendiamo la fuga. Diciamo l'ordine di cosa quest'anno, il Presidente Zieta non mi ha assomai con i confessati e invitatori della città di Roma, di una città fallita. Io sono stato di sentire cambiare i nomi ai provvedimenti per non far capire i cittadini che tentano di seguire le vicende politiche di questa città. Io sono stato di leggere che il taglio delle migliorate diventa razionalizzazione delle vie, io sono stato di leggere che la svedere dei popoli pubblici, dei patrimoni di questa città, diventa una valorizzazione. E qui nello diremo solo quest'anno, il Presidente Zieta, il Commissario, di tutta una città fallita e che sta svedendo i problemi per cercare di aggirare le finanze sempre più disastrate. Ma perché queste finanze sono sempre più disastrate? A me piace andare un po' a vedere le cause dei provvedimenti, quindi come si va a poter andare a casa. La città di Roma è distributa da un debito, debito commissariato, debito creato in gran parte davanti all'amministrazione del mondo, delle grandi e grandissime opere inutili che hanno visto lo streo, le centinaia di un portiero, di un pubblico, 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 di un pubblico. Pensiamo alla nuova di Fuxas, oggi lo ce l'ho scopo in emergenza e alla parte dei conti, finalmente, a me, un pubblico, di un pubblico, di un pubblico, di un pubblico. Pianco, io phantala città, io la prendo anche se la stazione di 50 milioni euro, ma anche endingizzabile alla fine grena dei meccanismi, idriizzabile nel 2015 e due Italia. da via. Vogliamo parlare dei punti dell'evalità ai quali pure si possono per quasi un miliardi di euro? E poi continuando, come dicevo, questa città è fallita e la mia operazione è fallita e penso che dai a punire i loro temi anche dal punto di vista patrimoniale e non solo dal punto di vista della giustizia per ricarare questa moragine che l'amministra c'è il vento per un'evalità che facerebbe domani quando ho tornato a metto 5 sui per dire magari impiegare un rezzo di euro che non si tratta di un'ottima demografica essere un fiscale e essere utilizzato per rignanare queste opere che hanno devastato la città nuova. Però questo riguarda il nostro Stato, è un particolare presente perché questa città non solo è fallita, non si sta facendo nulla per arranginare gli sprechi che tuttora devastano le nostre finanze. Io ad esempio ho detto recentemente e ho detto che ho detto che il Presidente e il Ministro del Regalo di Sonsi per Roma pergiorisce lo stipendio di 240 mila euro ma perché il Comune anziché agire su questi sprechi sventi di una Roma di Roma? E ancora mi piace ci può aiutarlo a scoprire quanti le festità natalizie ATAC ha speso 120 milioni per aspettare dei diritti oscelettici che per un mese i semi vuoti hanno percorso le vede al centro storico o ancora, aspetto che abbiamo denunciato, Piazza San Giovanni che è stata regalata da poche decine di migliaia di euro per un evento politico che è questo l'anno di queste natalizie quindi perché questi sprechi si potevano perferrare anche in parte a questa amministrazione che deve essere l'amministrazione e la discontinuità deve essere l'amministrazione del cambiamento e del cambiamento preso dietro? questa è una bella domanda da forse che dovrebbero rendere i loro impegni dopo di che l'aspetto più assurdo e che abbiamo vede i nostri impegni dietro allo stesso tempo guardiamo i perfetti passivi a capo giro abbiamo più volte ricordato, a funzione al caso di farlo ancora che il compito che lo aspetta 15 milioni di euro all'anno non mai smetteva gli ultimi questi contratti sono stati e sono stati rinnovati quasi 15 milioni di affitto per esempio per le energie dell'armonia e sappiamo anche che gli uffici dell'amministrazione che si è rinnovati per il credore sempre con un affitto passivo più basso ma sempre con un'uscita di un milione e mezzo di euro per le casse e tutto l'alettorato io rimando sempre con lei che se si vogliono fare una nuova assiccia basta fare il sacco per il cittadino del corso per dargli altri altri dove c'è adesso se siete lì ci vediamo più più di 10 metri quadri per il corso che sono letteralmente abbandonati adesso io vorrei dire anche ai cittadini che ci ascoltano che con le strade che ci ascoltano perché voi se ne siete solo con un camere 14 ci pensate sia i cittadini o qualche cittadino letteroso che voleste eseguire la unità alla fine lascia a vedere perché voi che sono rimasti ascoltano i grandi internet volevo ricordare che è assoluto io inviterei ai cittadini che sicuramente mi incontriamo che prima di metterci prima di metterci bene verifica il stato di problemi verifica chi c'è dietro verifica perché chi c'è dietro ha mai le gambe dopo gli struttura no la metterla a vedere se la metterla a vedere e se la metterla e ci metterlo io come dicevo che il popolo di Roma riesce a perdere a non far affrontare valorizzare i metri quadri al rforzo io penso che il popolo di Roma si potrebbe riferire un altro e invece il popolo di Roma lascia abbandonato questi mobili anzi dentro questo il popolo di Roma riesce a perdere dei soldi con questi mobili perché non fu cercando una modazione riuscito anche a dare carica ai dati che sembra strutturati a decenni è venuto come io per dei soldi ma anche vorrei portare alla vostra attenzione il nostro considero principale di grande cittadini il popolo di Roma che ha portato cittadini con anche 29 e 15 da sempre 11 12 in questa città costa il popolo di Roma 650 mila euro e pagate gli affitti passivi non contenti di questo svendere anche questo patrimonio tutte le risposte che mi piacerebbe avere ma purtroppo anche il testo vantaggiato ha fatto benissimo e con fronti dell'aula e con fronti dei consiglieri la totale assenza del sindaco di Gnanzi Marino il sindaco di Gnanzi Marino ha portato solo a 41 mesi consiglieri che è un consigliere ma sarebbe qualcuno che ha detto che sono i propri diventi di questa mattata il sindaco magari non ci mettesse la faccia illustrarsi come le risorse sull'azione al riguardo a 48 consiglieri comunali questo rivolgo anche i consiglieri di maggioranza che sono sicuro sono certo ma pensare l'ordomamento il sindaco del tutto invisibile la sindaca per la vita non si era non si era nessuno quindi amici quindi io mi abbiò avuto questo provvedimento che non solo distrugge quadricone in questa città e quadricone siano colpiti alle canze sui effetti per fare gli interessi dei cittadini o qualunque sono sempre distrutti dai servizi al rinominamento la mancanza dei gruppi pubblici e la raccolta di fronte della produzione delle scuole e della produzione stradale per continuare per giorni grazie grazie